L'undici agosto Samsung presenterà Galaxy Z Fold 3 e io mi sono accorto che sono ormai passati dieci mesi abbondanti da quando ho acquistato il mio Z Fold 2 e ancora non vi ho mai detto che cosa ne penso, non vi ho mai detto come mi sono trovato in tutto questo tempo. Quindi mettetevi comodi e facciamoci due chiacchiere, vi va? Niente musica di sottofondo questa volta, senti qua che cicalio. Meglio. Allora, prima di iniziare vi ricordo che se questi video un pochino più chiacchierati vi piacessero, mi raccomando di condividerli con persone e amici che pensate possano essere interessati a questi argomenti e ovviamente di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche. E ora veniamo a noi, perché proprio oggi abbiamo scritto un articolo su Android Word riguardo una ricerca di CounterPoint secondo la quale nel 2023 ci sarà un boom di dieci volte del mercato dei pieghevoli rispetto al 2020. Ora nel 2020, quindi l'anno scorso con in più la pandemia di mezzo, non è che il mercato dei pieghevoli sia stato chissà quanto florido, quindi un 10 per nel 2023 non vuol dire che improvvisamente nel 2023 avremo tutti un pieghevole. Ma la cosa interessante è che la netta maggior parte di questi pieghevoli, anche nel 2023, prevede CounterPoint, saranno di Samsung. Quindi andare bene o male ad analizzare un po' quella che è l'idea di Samsung di pieghevole vuol dire comunque analizzare quello che sarà il prevedibile mercato dei pieghevoli da qui ai prossimi anni. E Samsung ha le idee abbastanza chiare. I pieghevoli devono essere fatti così, ovvero con lo schermo flessibile pieghevole, chiamatelo come volete, all'interno. Questo crea, diciamo, dei vantaggi e degli svantaggi. Partiamo dagli svantaggi perché, se devo essere sincero, in questi mesi ho visto un generale consenso nei confronti dello Z Fold 2 da parte della stampa, ma non solo, anche da parte di chi lo aveva comprato. Cioè non ho mai sentito una voce un po' fuori dal coro che dicesse no, a me non piace. E sia chiaro, non sarò io quella voce fuori dal coro che vi dirà no, non mi è piaciuto, però voglio comunque provare a farvi ragionare su alcuni aspetti dei quali non ho visto parlare molto, tra i quali appunto questo discorso dei due schermi. Esempio, io parto a guardare un video di YouTube sullo schermo frontale e poi apro il mio dispositivo per guardarlo su quello dentro. Che cosa succede? Succede che, lo vedete anche in questo momento, ci sono delle anteprime grossissime dei video, anche un po' sgranate, ma perché? Perché questa non è la grafica che YouTube dovrebbe avere sullo schermo grande. Se infatti la vado a chiudere e riavviare, vedete che compare una disposizione su due colonne che è quella naturale di YouTube per questo form factor qui, per lo schermo grande all'interno del Fold. Perché? Perché l'app, essendo già stata avviata sullo schermo piccolo, sullo schermo frontale, nel momento in cui andate ad aprirlo, l'app non si riavvia, non cambia quindi il suo form factor se eventualmente avesse una visuale apposta per il tablet, perché non è detto che tutte le app ce l'abbiano. Nel caso di YouTube sì, nel caso di Gmail per esempio non c'è bisogno di alcun riavvio e voi passate dallo schermo frontale a quello interno con la grafica corretta senza alcun problema. Altre applicazioni ancora sullo schermo dentro che le riavviate o meno non si adattano bene. Per esempio Instagram è l'esempio appunto più eclatante perché non riuscite a vedere un post nella sua interezza in un'unica pagina, dovete scrollare un singolo contenuto per vederlo tutto quanto. C'è la possibilità tramite Good Lock di andare a ridefinire la dimensione di alcune applicazioni e quindi di renderle magari più strecciate nello schermo interno in modo da non sfruttare tutto lo spazio ma da averle adattate al meglio. Ovviamente dipende dagli sviluppatori delle singole applicazioni adattarle o meglio allo schermo più grande. Allo stesso tempo diciamo che Samsung ha cercato di fare il meglio per poterle adattare al multitasking in particolare con Good Lock che va appunto ad aggiungere alcune impostazioni ulteriori rispetto a quelle che già non ci sono nelle impostazioni standard del Fold per gestire al meglio questo discorso dei due display. Per esempio vi offre anche la possibilità di decidere che cosa fare nel momento in cui chiudete lo schermo perché se da una parte intuitivamente voi avete l'app nello schermo frontale lo aprite e vi viene logico pensare che quella stessa applicazione vi verrà aperta sullo schermo principale non è altrettanto logico cosa debba succedere nel momento in cui lo andate a chiudere. Va in stand by il dispositivo? Vi riporta sullo schermo frontale la stessa app che avevate aperto al suo interno? Se ci pensate bene la soluzione non è detto che sia univoca può dipendere appunto dai gusti di ciascuno e questo lo potete scegliere tramite Good Lock che appunto va ulteriormente ad ampliare le possibilità di personalizzazione del Fold che però serve proprio a farvi capire come non ci sia per forza una soluzione univoca o una soluzione migliore perché sì comunque avere due schermi da gestire qualche complicazione in più ve la apporta. Sia chiaro però che questa è l'unica scelta sensata perché? Perché uno schermo rivestito in plastica tra l'altro qui ho ancora la pellicola originale di Samsung che infatti sta formando un sacco di bolle deve essere all'interno. Vi immaginate se questo schermo qui delicato come fosse tutto sempre all'esterno non ve lo potreste mettere in tasca o in una borsa senza per forza di cose rovinarlo. E sia chiaro che la soluzione per esempio del Mate X originale che appunto aveva lo schermo pieghevole all'esterno è più bella se ci pensate bene perché voi avete un unico display che lo andate a chiudere o aprire a seconda di quanto grande lo volete avere ma è comunque quell'unico schermo lì non ci sono questi problemi di cosa fare nel passaggio da uno schermo a quell'altro al contempo però è ovvio che per evidenti limiti tecnici che ancora ci sono sugli schermi pieghevoli non siamo pronti ad averli all'esterno tanto più che già è difficile per esempio mettere una cover a un dispositivo del genere ce la potete fare se dovete proteggere queste due singole metà ma se doveste proteggere un display pieghevole che quindi si va ad aprire e chiudere sarebbe praticamente impossibile ok e non a caso anche chi sta provando a fare concorrenza a Samsung per esempio Xiaomi ha adottato un forfactor che è esattamente questo e non a caso nell'altro pieghevole che a Samsung che è il flip lo schermo curvo è comunque all'interno e non all'esterno allora qual è il vantaggio nell'avere sempre un grande schermo da 7,6 pollici all'occorrenza dietro con sé è ovviamente quello di ricorrere al multitasking principalmente perché sì è vero potete guardare un video su YouTube a tutto schermo ma a tutto schermo vuol dire che comunque avrete due ampie bande nere sarà comunque probabilmente un visuale un po' più grande della maggior parte degli smartphone ma non va comunque a sfruttare bene tutto lo spazio che avete a disposizione anche perché questo display qui all'interno è praticamente un 4 terzi quindi è difficile sfruttarlo con contenuti multimediali ci vogliono le applicazioni e qui ne potete tenere fino a 3 in esecuzione contemporaneamente anche se vi devo dire la verità le due applicazioni che condividono in pratica la stessa colonna sono abbastanza sacrificate in alcune come per esempio Trello è facile riadattare il contenuto proprio perché c'è una funzione apposita che zoom e quindi vi permette di avere il livello di zoom adeguato ma nelle altre non è così immediato se doveste per esempio navigare nel rettangolino qua in basso ok che potete usare il pinch to zoom ma va bene giusto per una cosa al volo ma non certo per lunghe sessioni meglio invece se avete due applicazioni affiancate che in pratica è quasi come avere due smartphone affiancati l'uno all'altro quantomeno a livello di colpo d'occhio c'è un problema però che queste due applicazioni affiancate non sempre dialogano tra loro se io ho Telegram da una parte e la galleria dall'altra non posso trascinare un'immagine e inviarla al volo su Telegram devo semplicemente usare la condivisione di Android classica e condividerla con Telegram questo perché comunque il concetto di multitasking di multifinestra che c'è qua su Android e già Samsung ha fatto quello che poteva per migliorarlo non è lo stesso che noi utenti abbiamo comunemente perché? Perché l'idea di multifinestra l'abbiamo dai sistemi desktop da macOS, da Windows dove voi potete trascinare tranquillamente contenuti su Telegram per esempio riprendendo l'esempio precedente e condividerli al volo questo discorso ancora su Android non c'è e qui è un po' colpa anche di Google che comunque non ha mai insistito troppo sullo sviluppo di questo tipo di interfacce magari lo farà nel momento in cui anche Google stesso dovrà presentare un pieghevole che sembra sia quantomeno all'orizzonte fatto sta che se in alcuni casi è vero che potete per esempio prendere blocchi di testo da una parte e trascinarli dall'altra ed averli subito pronti dall'altra non c'è sempre quell'immediatezza che vi verrebbe da pensare avreste perché siete abituati ad un uso simile su desktop e che qui invece non ritrovate e alla fine quelle volte in cui vi ritrovate bloccati da questi limiti del sistema operativo va a finire che utilizzate le due app così come se fossero due app aperte singolarmente ciascuna nella sua finestra e non due app affiancate ribadisco c'è spazio per sfruttare bene questo discorso del multitasking ma non vi aspettate che sia così flessibile come invece siete abituati su un sistema desktop perché ancora nonostante l'impegno di samsung semplicemente non lo è per quanto riguarda le dimensioni vi dico la verità è grande soprattutto è spesso è pesante è più pesante di qualunque altro smartphone vi possa venire in mente ma mi sono abituato anche abbastanza rapidamente perché comunque siamo sotto i 300 grammi non è che sia chissà che peso in mane e quando lo aprirete bene o male lo userete sempre con due mani quindi distribuendo molto bene il peso appunto tanto da quasi non sentirlo addosso in tasca lo sentite più di un telefono normale ma comunque è una cosa alla quale farete l'abitudine sentirete la differenza sapete quando? quando prenderete un telefono normale anche un piccolo padellino come questo Pixel 4 XL al confronto è leggero è leggero perché qua siamo appunto su un peso completamente diverso e poi anche su uno spessore completamente diverso perché è praticamente pari a due telefoni uno sopra l'altro tanto più che qui dove c'è la piega vera e propria lo spessore aumenta non è proprio quello sovrapposto ma è ancora di più di nuovo abbiamo la tecnologia per piegare lo schermo ma ancora ci sono tanti passi in avanti da fare a livello di contenimento dello spessore delle dimensioni del peso e questo è ciò che ha portato anche Samsung a dover restringere la larghezza di questo dispositivo perché vi immaginate se l'avesse fatto più largo quanto non sarebbe stato ancora più scomodo e ancora più pesante da tenere in mano quindi abbiamo raggiunto un bel livello della tecnica ma c'è ancora tanto spazio per tanti miglioramenti e soprattutto la cosa che mi ha dato da pensare proprio ora in estate sono stato al mare un mesetto fa e avevo paura paura non tanto dell'acqua lo Z Fold 3 avrà molto probabilmente l'impermeabilità ma paura della polvere della sabbia sono andato sul mare non portandomi il telefono i primi giorni e portandolo dietro ad una custodia con tripla chiusura e strap ulteriore per tenerlo il più possibile a riparo dalla sabbia perché avevo paura che entrassero dei granelli qua dentro perché parliamoci chiaro la sabbia al mare è ovunque ve la portate dietro anche nelle tasche sui vestiti addosso e beh insomma chi è che non avrebbe paura di rovinare la cerniera di uno smartphone che costa 2000 euro e che non è assolutamente resistente alla polvere e non lo sarà nemmeno nella prossima generazione in arrivo e questo un po' può essere un problema è un limite rispetto ad un telefono qualunque perché ormai sono praticamente tutti o quasi almeno da un certo livello in poi i P68 e non vi dovete preoccupare della sabbia non vi dovete preoccupare dell'acqua non vi dovete preoccupare non di prenderli e lanciarli nella sabbia ma proprio non ve ne dovete preoccupare a prescindere perché anche nelle vostre tasche c'è della polvere ci può essere non solo della sabbia ma anche dei granelli normali di polvere quando siete in città a seconda magari del mestiere che fate dei luoghi che frequentate più o meno che possono avere delle conseguenze su uno smartphone che comunque non è certificato per l'esistenza alla polvere e mi viene da dire difficilmente lo sarà anche nel prossimo futuro per non parlare del fatto che qualunque accessorio voi aveste dalle cover ai supporti per auto a tutto quello che vi viene in mente qui praticamente non va bene perché al massimo può andare bene per lui chiuso a meno che il peso eccessivo di questo non sia un vincolo sto pensando ai supporti per auto che cadono quasi tutti in questa maniera per non parlare del fatto che quando ho aperto beh è ancora più complicato quindi si apre tutto un mondo di piccole complicazioni in più che con un telefono standard non avreste e poi volendo proprio essere pignoli io ancora non mi sono abituato bene a questo lettore di impronte o meglio lui forse non si è abituato bene a me nonostante abbia memorizzato le mie impronte più volte spesso devo ricorrere al pin perché lui al primo secondo terzo quarto tentativo non me la riconosce allora vai di pin e queste fotocamere qui sono ok ma non sono certo quelle fotocamere flagship non sono le fotocamere da uno smartphone da 2000 euro sono abbastanza convinto che la media dei top di gamma da 800 euro in più possa fare quello che fanno loro se non meglio in tutto questo non vi voglio dire che sia una brutta esperienza quella del Fold 2 assolutamente ogni volta che faccio così e ho a disposizione un 7,6 pollici AMOLED a 120 Hz sono contento di averlo comprato perché qui è tutto più bello mi sono soffermato su queste diciamo più che mancanze quasi inevitabili problemi derivanti dal suo forfactor perché ho visto anche che in varie riprove mesi e mesi dopo non ci si erano soffermati poi in tanti ma il vero problema quello al quale accennavo nel titolo del video quello che per me è stato o meglio sta diventando un po' un problema quantomeno a livello concettuale ma poi in realtà anche pratico è un altro cioè il fatto che io ho preso questo dispositivo come sostituto del mio smartphone di prima che era questo Pixel 4 XL e l'ho usato come mio smartphone principale ma in realtà questo non è uno smartphone perché questi 25 noni qua davanti sono troppo stretti per essere godibili i contenuti della maggior parte delle app sono troppo schiacciati vi verrà quasi sempre da aprirlo ma non è detto che possiate sempre aprirlo perché dovete comunque utilizzare due mani per farlo e non è un gesto che potete fare sempre in ogni momento e se dovete scrivere su questa tasterina così piccola beh è scomoda va bene per un messaggio al volo ma io ancora adesso anche nei messaggi brevi spesso sbaglio dovreste aprire è vero il vostro fold e digitare ogni volta con lo schermo aperto cosa che magari può essere un po' scomoda se avete aperto magari un video al volo per vedere non lo so una ricetta sullo schermo frontale e poi dopo un po' non ne potete più perché è troppo piccolo per guardare su quello dovete aprirlo dovete premere per ingrandirlo dovete ruoteare il dispositivo per sfruttare al meglio tutte le sue dimensioni per avere meno bande nere possibili e insomma alla fine sono tre gesti che si allungano e che non è sempre detto che possiate o vogliate fare cioè alla fin fine l'esperienza smartphone qui è sacrificata molto per anche quei limiti tecnici che vi dicevo prima perché se Samsung l'avesse fatto più largo sarebbe stato troppo pesante troppo grande troppo anche difficoltoso da tenere con una mano sola ci vorranno ancora anni affinché la tecnica faccia dei progressi tali da poter avere un cover display che sia bene o male con le stesse proporzioni di uno smartphone qualunque senza andare a complicare troppo peso e dimensioni di un dispositivo del genere che già sono abbastanza complicati e anche per quanto riguarda il tablet è sì un'esperienza tablet ma tablet in quattro terzi praticamente quanti tablet in quattro terzi ci sono al giorno d'oggi perché come abbiamo visto anche prima questo suo four factor introduce delle complicazioni al suo interno che un pochino diciamo vanno a ridurre l'esperienza tablet oltre alle riduzioni lato software che quelle assolutamente permangono delle quali abbiamo già parlato prima insomma non vi sto dicendo che il mondo default ball sia oddio chissà quanto problematico vi sto dicendo che comunque ci sono i suoi problemi non da ultimo assolutamente quello del prezzo ma è un discorso poi completamente a parte perché tra l'altro questo qui ci sono stati dei momenti in cui lo potevate acquistare su amazon anche intorno ai 1000 euro pensate aver pagato uno smartphone 2000 euro 2000 euro e neanche un anno dopo vederlo svalutato intorno ai 1000 anche quello in fondo non è che sia una cosa troppo bella per chi l'ha comprato ecco sono soddisfatto quindi del mio acquisto sì perché mi ha potuto permettere di provare una tecnologia del domani lo rifarei? beh senz'altro non con Fold 3 probabilmente perché da quello che abbiamo visto non cambierebbe troppo le carte in tavola rispetto a questo e soprattutto prima di avere un grande passo in avanti che superi quelli che sono i limiti che vi ho presentato secondo me ci vorranno anni se non vi foste mai fatti un Foldable e ne trovaste uno a prezzo vantaggioso è sicuramente una grande esperienza che vi aprirà un po' gli occhi su un altro mondo probabilmente ci vorranno comunque ancora diversi anni prima che diventi un'esperienza così sdoganata da poter essere alla portata di tutti non solo a livello di portafoglio ma poi anche di user experience ditemi che cosa ne pensate voi proprietari di Foldable qua sotto nei commenti o anche voi non proprietari di Foldable non voglio assolutamente limitare lo spazio dei commenti a qualcuno da partire come sempre un saluto grazie per essere stati fin qui e alla prossima